Il progetto Rafforzare integrazione e costruire ospitalità, cofinanziato dal Ministero dell'Interno e dell'Unione Europea attraverso il fondo FAMI, sta svolgendo al suo termine e in questa occasione della presentazione del programma pastorale della Diocesi di Roma, vogliamo un po' restituire alle parrocchie, agli istituti religiosi che hanno aderito a questo progetto e ci hanno consentito di arrivare ai risultati raggiunti, appunto un po' dei risultati. Abbiamo accolto 105 persone, tra cui 16 famiglie con quasi 30 minori a carico e siamo riusciti a portare all'autonomia, piena autonomia lavorativa e abitativa, già oltre il 25% delle persone assistite grazie a questo progetto. Il contributo del territorio attraverso gli italiani che fanno parte delle parrocchie e che aderiscono al progetto è stato fondamentale per poter arrivare a un'inclusione così reale e piena. Gli equilibri sono sempre molto fragili perché sappiamo che la situazione lavorativa può cambiare da un momento all'altro, però aver costruito una rete intorno a queste persone è sicuramente l'elemento vincente anche per una sostenibilità nel futuro delle conquiste già avviate.